Buongiorno a tutti, sono Cleilla Savarese e sono candidata alle lezioni comunali del 2020 con Fratelli d'Italia. Mi presento brevemente, io sono una psicologa di Saronno, sono cresciuta qua a Saronno tra il quartiere Matteotti e il quartiere Santuario e ho sviluppato appunto come studi quelli di psicologia. Mi candido perché vorrei portare un po' della mia piccola in costruzione esperienza come psicologa, come operatrice del sociale nell'ambito comunale. Nella mia carriera professionale mi sono occupata molto di temi di psicologia giuridica, di tutela minori e anche parecchio di violenza contro le donne e penso che questi temi meritino un'osservazione, un'attenzione particolare anche in ambito politico, che è quello che vorrei fare io. Mi sono candidata con Fratelli d'Italia perché ho conosciuto Giorgia Meloni attraverso, penso come molti di voi, le sue interviste, quello che ha detto in più occasioni in televisione e ho molto apprezzato la coerenza dei suoi discorsi. posso non essere d'accordo su tutto quello che dice ma apprezzo fortemente la coerenza che è uno dei miei valori fondamentali. Per questo motivo ho deciso di affiancare appunto il gruppo saronnese di Fratelli d'Italia.